Con la venuta di Santa Rastasi abbiamo fatto sette vittorie, tre pareggi e una sconfitta non meritata a Torte di Atene. Abbiamo fatto un buon pareggio sabato con gli amici di Torte di Atene, abbiamo giocato la partita, loro erano una bellissima squadra, io sono convinto che è una delle prime a salvarsi. Si conferma che l'erano squadra ostica in casa? In casa? Ma non solo noi, abbiamo pareggiato, altre squadre, due di casa gioco che è una corazzata, è andato lì, ha vinto di misura per 1-0. Noi parliamo di sorpresa San Felice, però il Villariterno per quanto ha fatto vedere l'anno 2013, ricordiamo il campionato scorso, un grandissimo giovitone, quindi si sono affrontati due splendide realtà. Ma lì giocano a calcio come noi, fanno un calcio genuino, hanno dei ragazzi...